Just there, maybe we could have a spokesperson to explain it to us. Allora, Live Paintings è un prodotto multipiattaforma attraverso cui si possono vivere i dipinti di artisti famosi che ritraggono particolari paesaggi del territorio italiano. Quindi è un prodotto che nasce innanzitutto in questa forma base, una forma molto base perché non avevamo i programmi di grafica per poterla realizzare diversamente, per la stampa. L'idea era quella di utilizzare i contorni dell'Italia, quindi proprio i confini, come una cornice per indicare che tutto lo stato italiano, tutto il paesaggio italiano è di per sé già un quadro. All'interno poi dell'Italia possiamo vedere i vari smartphone che ritraggono i diversi dipinti e sul sito web cliccando su ognuna di queste icone è possibile andare a vedere il dipinto nella dimensione originale, anche con dei dati che riguardano appunto la sua creazione. Poi subito dopo l'idea era quella di far tramutare il dipinto in fotografia vera o eventualmente in video e di poter scorrere la galleria di foto scattate dagli utenti attraverso l'applicazione per tablet e per smartphone in quegli stessi luoghi. Quindi anche poi la dimensione in questo caso degli iPhone o comunque dello smartphone varia in base al numero di like o al numero di commenti o comunque di foto che gli utenti hanno scattato in quella precisa località e che quindi è collegato a quel dipinto. Come altre caratteristiche... Cos'altro c'era da... Allora un dettaglio che avevamo pensato è possibile riscontrarlo per esempio in Sicilia dove c'è un dipinto di Guttuso come accennavamo già prima che ritrae in realtà non un paesaggio ma il mercato quindi i prodotti tipici anche per cui dipinti non del paesaggio in senso stretto ma anche dipinti di insomma scene di vita quotidiana che rappresentano in qualche modo anche la cultura del paese. Quindi abbiamo cercato di coniugare diciamo i social network perché è una sorta di Instagram culturale con il tentativo di dare un'immagine diversa dell'Italia. E come si fa a capire come raggiungere i posti specifici per vedere... Allora nel momento in cui poi clicchi sulla foto ti dà una scheda con tutti i dati sia del dipinto che nel momento in cui poi da dipinto diventa foto reale e ti dà tutte le informazioni anche geografiche... Location? Sì. Right. Perché sarebbe bello di entrare in Google Maps o qualcosa dove potrebbe poter entrare in Google Maps e sapere esattamente dove... Sì, sì, tutte le coordinate geografiche, sì, nella scheda nel momento in cui poi... It's a nice idea. I like it. Yeah. Grazie. It's good. It's nice graphically as well. È anche una bella grafica. Yay. I'm going to have a table because I have a hard time hearing from the... You want to go this side? Yeah, okay. Sorry, we're coming round the front. We're coming closer. Ci avviciniamo. Now there's a second idea from this group, right? Am I right? E c'è anche una seconda idea da questo gruppo, che è questo. Allora, questa diciamo è la base dell'idea di prima, perché non sapendo cosa fare mi era venuta questa idea. Diciamo che questa applicazione si potrebbe chiamare iLocation e verrebbe presentata appunto tramite una rivista con un articolo in un paginone in cui, diciamo, vengono presentati queste dieci location in cui un fotografo matrimonialista o comunque anche un fotografo amatoriale potrebbe fare delle belle foto da inserire in book, fotoricordo, cornice e così via. Praticamente ogni articolo presentato, diciamo, ogni location presentato in questa pagina del giornale ha una piccola foto, il titolo in cui viene indicato appunto il nome della location stessa e una breve descrizione. Al di sotto vi è questo, non mi viene mai il nome del, come si chiama, quel quadratino che viene fotografato dal cellulare per accedere appunto alla rete, che può essere fotografato con, diciamo, qualsiasi piattaforma, quindi Android, iOS e qualsiasi altra, diciamo, piattaforma mobile, apre appunto una pagina web nel quale è possibile con una navigazione, diciamo, a schede, accedere a tutte le foto di questa location, dei video, perché ormai al giorno d'oggi è importante avere anche i video, e una mappa soprattutto in cui è possibile accedere direttamente a Google Maps per potervi accedere, perché ormai tutti i supporti hanno Google Maps, e un'interfaccia, diciamo, chiamata You. Questa interfaccia You, praticamente, è la parte interattiva di questa pagina web in cui è possibile caricare dei video, delle foto, lasciare appunto un commento, mettere un mi piace direttamente su Facebook, oppure, visto che si parla di social network, pubblicare su Facebook, Twitter, Dropbox e altri, diciamo, social network in generale, quindi è un'idea, diciamo, semplice, che però è stata un po'... Ah, scusate, I'm sorry. Allora... Purtroppo in radio, io lavoro in radio, quindi è veloce la comunicazione. Niente, questo è tutto. Fa un po' schifo, perché... Il design non è bello, ma è ok. Mi piace l'interazione di andare dal codice al sito web, il modo di muoversi. Ed è sempre importante introdurre anche la comunità, no? I social media. Buon'idea. Buon'idea. Allora, questa è la versione che abbiamo preparato per la carta stampata. Sì, la carta stampata. E abbiamo deciso di presentare una cosa diversa. Volevamo parlare di dieta mediterranea, quindi qualcosa che rappresentasse il cibo italiano, lo rappresentasse, diciamo, sotto un aspetto di... sotto l'aspetto della qualità. Abbiamo pensato di presentare, anzitutto, diciamo, il riquadro senza immagine, è quello che presenta la dieta mediterranea con un grafico laterale che indica le sostanze, le alimenti presenti e le percentuali in cui devono essere presenti nella dieta. E poi ci siamo basati sui dati ISTAT per vedere come questi alimenti vengono consumati nelle singole regioni. e quindi abbiamo presentato il grafico a parte. La parte testuale rappresenterebbe, è un esempio, rappresenterebbe, insomma, poi la descrizione, insomma, la storia vera e propria. E continuerebbe così, insomma, per un paio di pagine. Questo è un esempio della versione stampata. Possiamo andare avanti, se volete, presento la... Questo è quello che abbiamo pensato per gli smartphone. Abbiamo a sinistra la versione con le stesse informazioni per ogni singola regione. E un'altra parte, diciamo, di questa app sarebbe la presentazione del nostro modo di mangiare con la possibilità di interazione nel menu in alto. Vediamo che c'è l'opzione sulla tua regione. Cioè uno può scegliere appunto la propria regione e vedere quello che c'è sulla sinistra. Scendendo invece c'è cosa mangi, che è qualcosa che poi va integrato con le informazioni nutrizionali e le comparazioni di cui ho parlato prima. Possiamo andare avanti. Questo è il sito web. Cliccando... In alto abbiamo un menu che presenta la dieta in generale in Italia, quindi informazioni nutrizionali sul modo di alimentarsi degli italiani. A destra abbiamo invece le indicazioni sulla dieta mediterranea. E giù la possibilità di scegliere ogni singola regione. Possiamo procedere. Questa è la pagina di ogni singola regione, che può essere anche in pop-up, dipende dall'impostazione. Abbiamo sempre la lista degli elementi con le percentuali di consumo, rappresentate graficamente. Poi possiamo procedere. E questa invece è la cartina generale sulla dieta mediterranea, che presenta dati relativi a tutto il bacino mediterraneo. Credo che sia tutto. Ovviamente, penso che avrete capito, non sono italiano, no? L'avete capito? Però qui mi piacerebbe vedere anche proprio l'immagine dell'Italia, no? Prima di vedere le regioni. Quindi vedere proprio l'immagine dell'Italia nella sua interezza. E poi immagino che qui ci sarebbero poi i numeri, le statistiche. Ci mancano questi. E mi piace come viene poi spostato sullo smartphone. Mi unico problema è che quando arrivi alla regione, quando arrivi alla mediterranea, mi devo ricordare di quanto era la lunga delle barri regione. Deve essere spostati o qualcosa. Solo che quando passiamo all'aspetto del bacino mediterraneo, avrei bisogno di avere un promemoria anche di quello che erano le barre delle singole, o della regione che mi interessava. Non un confronto sostanzialmente. O anche un triangolo che ci indica dove terminava la barra precedente, giusto per poter fare quel confronto. Beh, sono professionisti, in fondo. Presentato anche molto bene, devo dire. Sì, è molto convincente. Soprattutto qui. È il formato veramente ideale per il telefono, devo dire. È solo la connessione del cellulare. È solo che la connessione dall'edio è un po' lontano, praticamente. Sì. Sì. Allora, gruppo C. Gruppo C. Italia è una stivale. Allora, sostanzialmente per rappresentare una parte dell'Italia abbiamo scelto una piattaforma di tipo turistica. Sostanzialmente questa è la prima schermata. Il titolo è Walk in Italy, Unconventional secret map. Siamo partiti dal fatto che spesso le mappe per turisti vanno, diciamo, per posti acclamati, quindi abbiamo pensato di fare una mappatura nascosta dei luoghi poco conosciuti italiani. Per cui la prima pagina ha subito in alto tutti i bottoni social, sotto a un QR code dal quale è possibile scaricare l'applicazione. E i codici di accesso che abbiamo chiamato subscribe e walk in, per poter diventare, diciamo, anche parte integrante di questa piattaforma. Sostanzialmente funziona così. I turisti che scelgono un posto, ovviamente non acclamato, dell'Italia, possono attraverso il login, diciamo, indicizzare il sito stesso, perché sono loro che continuano ad alimentare questa mappa virtuale dell'Italia, per cui tutto il seo va da sé, noi ci siamo allevati un problema. Una volta cliccato, noi abbiamo scelto Roma come esempio, però dobbiamo immaginarci, diciamo, lo stivale pieno di puntini. Roma è sostanzialmente, dentro Roma vengono messe, diciamo, le indicazioni fondamentali dei musei più conosciuti, delle cose da vedere più conosciute, e si apre, a mo' di sistema solare, una serie di raggi che indicano i luoghi nascosti, i luoghi segreti, cioè quei luoghi che sostanzialmente non vengono riportati sulle mappe. Nella seconda pagina, se possiamo andare a... No, l'altra, scusate. Scusate. No, no, no. Go to the other one. Another? Ok, abbiamo cliccato Roma, giusto? Quindi su Roma noi abbiamo tutti i monumenti che possiamo vedere, però in realtà quella X ci dice che c'è un posto nascosto. Questo posto nascosto è un piccolo borgo romano, che le guide in genere non segnalano, ma che un certo John ha caricato attraverso una foto. Per cui John scatta quella foto e viene visualizzata ovviamente con il cursore, passando con il cursore sulla foto, la cartolina virtualmente si gira, per cui c'è nickname, cioè di John come utente, il collegamento della pagina utente, per cui cliccando sulla faccia di John avrete anche una sua scheda con i feedback, quindi potremmo capire se questo utente è veramente, diciamo, valido come guida virtuale. Sotto John abbiamo, a livello di quella X, abbiamo la geolocalizzazione e accanto quello che John ci manda della sua cartolina. Cioè andate in questo posto perché in questo posto potreste vedere X. Sopra abbiamo una piccola scritta che è una sorta di curiosità, abbiamo un proverbio locale con la traduzione in inglese e il bottone sonoro per poter sentire in diretta qual è l'accento della zona che abbiamo scelto. Così per Roma, così per Bari o così per Taranto. Abbiamo detto che c'è l'applicazione per cui anche da smartphone è possibile, diciamo, collegarsi. Per quanto riguarda invece la pubblicità, il lancio della pubblicità, abbiamo pensato a una pubblicità un po' divertente, un po' virale, che non svelasse tutto. Ed era la foto che avete visto. Possiamo rimandare l'altra foto? Ok, quindi sarebbe cose mai viste. Cammina in Italia, un conventional map, secrets, quercode e tutti i tasti. Eh beh sì, l'Italia è uno stivale. Mi piace molto l'idea di questa Italia, un po' nascosta. Non so se sarebbe realizzabile proprio in questa maniera, però l'idea è veramente ottima, devo dire. Per esempio, mi piacerebbe vederlo realizzato per New York, sinceramente. Perché è una super versione del TripAdvisor. Quindi è un'idea molto intelligente. E questo è abbastanza folle, devo dire, anche in cui immagini. Ma d'altronde bisogna anche promuoverle, no? Pubblicizzarle queste cose, altrimenti non saranno usate. Diventa solo un passaparola e poi ci vuole tanto tempo. Non mi piace questo tizio qui, però, a parte lui. Credo che sia un'idea che richiede un po' di lavorazione, però è una prima idea, effettivamente, no? E mi immagino effettivamente presentarlo in una riunione e credo che sarebbe ben accetto, insomma. Beh, è sempre un problema questo. Anche in TripAdvisor abbiamo questo problema, no? Come hanno menzionato, bisognerebbe far sì che il posto diventa tanto più conosciuto quante più like ci sono, no? Quante persone lo visitano. Se è una persona sola o 500 persone che ci sono state. Quindi è importante avere queste informazioni. Ma mi piace la soluzione, mi piace l'idea. Questo è il laboratorio e adesso andiamo avanti con le mappe. Vediamo le mappe insieme. Speriamo che non sia tanto noioso quanto suona così dal doverlo dire. Avremo bisogno del suono qui dall'audio. Sì. Sì. È up? Sì. Sì. Allora. Possiamo che spegnere il livello. Sì. 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 Quindi abbiamo parlato dei diagrammi, dei grafici. E siamo arrivati alla mappa. Prima di tutto, voglio mostrarvi. Questo non è una mappa, ovviamente. Ovviamente questo non è una mappa. Ma ho preso questo dall'email del 8x8. E devo dire che anni fa, prima del Google Search di YouTube, non so se si faceva qui in Italia, però in Inghilterra si faceva e bisognava indovinare dove era posizionato il pallone in questa immagine, per esempio. E quindi me l'hanno presentato, l'8x8 me l'ha presentato e voleva una mia opinione. e io l'ho trovato piuttosto solo... E voi non potete rispondere a questa domanda perché sto per darvela io, però la gara consisteva proprio in questo, cercare di capire dove era posizionato il pallone. E si riesce anche a vedere che il pallone è qui in alto, è proprio qui. Si pensa che sia più... dall'idea che sia più in basso, invece era lassù in alto. Ecco qui. Allora, se si vuole sapere qualcosa in proposito delle mappe, è bene non andare a Hollywood. Un mio amico ha scritto questo libro, Krakatoa, il giorno in cui il mondo esplose. E nel 1970, credo 69-70, uscì questo film, Krakatoa a est di Java. E c'erano degli effetti speciali molto antiquati, diciamo. E' stato filmato a Cinerama, eh? Notate anche questo. C'è solo forse un cinema al mondo ancora in grado di proiettarlo, questo film. Ed ecco l'inizio. Se lo portiamo un attimo indietro. Il problema è che Krakatoa in realtà è a ovest di Java. E andando su Wikipedia, facendo una ricerca, ci viene detto che in realtà chi ha prodotto i film sapevano che era a ovest, però suonava meglio dire a est di Java. E quindi ho modificato il poster e in realtà doveva essere Krakatoa a ovest di Java. Eh, nelle mappe bisogna sempre stare attenti, pensare a dove si trovano i vari luoghi, non si può confondere est con ovest, no? E le persone spesso mi dicono, le mappe sono noiose. E' un po' folle se ci si pensa bene, perché le mappe ci danno informazioni. E a volte ci possono dire delle cose in maniera anche molto semplice. Se si vive a Londra, questo è estremamente vero. E i ricchissimi vivono qui. E tutti noi altri siamo tutti perdenti. E dovete sapere che i new yorkesi sono bravissimi a lamentarsi. Ed ecco alcune cose di cui si lamentano. Si vede che qui sull'isola, diciamo che si lamentano soprattutto della spazzatura. Ma dove vivo io, qui a Manhattan, il problema principale è il rumore. Non tanto i graffiti che invece sono più nella zona Bronx. E quindi io trovo una mappa molto utile questa. E guardate questa mappa come si dispiega, come si può aprire. E guardate quanto si ingrandisce. Trovo un'idea molto semplice e estremamente brillante. E' ottimo. Avrei voluto averla io quest'idea. Molto, molto intelligente. E' la mappa zoomabile. Qui siamo. Ci sono mappi di tutto. Questo è il mondo Mario. Questo è il mondo Mario. E' il mondo di Mario. E' il mondo di Mario. O per esempio questo tizio si è fatto tatuare sulla schiena la mappa del mondo e ha fatto colorare i luoghi in cui lui è stato. E quindi va in vacanza poi torna a farsi colorare praticamente la zona. E non lo raccomando, non lo consiglio eh questo. Non lo consiglio agli studenti soprattutto. Una volta ho organizzato un progetto per gli studenti, c'è stato uno studente che è tornato con il tatuaggio sulla spalla. E il problema è che non mi piaceva tanto come era stato tatuato, la tipografia non mi piaceva, però ormai era andata. Troppo tardi. Qui c'è il traffico internet. E qui telefonate da New York in varie parti del mondo. O qui gli Stati Uniti, gli stati degli Stati Uniti posizionati a forma di cuore. Amo gli Stati Uniti. A parte il problema delle armi eh. Google Maps per esempio ci dà la possibilità di inserire delle, di richiedere delle cose assurde come in questo caso per esempio come attraversare gli Stati Uniti a piedi partendo da San Francisco. Ed è preciso, 3.000, 41 giorni e 20 ore. E anche le indicazioni sono precisissime. Che ti spiegano come uscire da New York, come prendere il traghetto, come fare insomma tutto il tragitto preciso per arrivare a San Francisco. Quando è uscito l'applicazione della Apple, per le mappe si sono riscontrati dei problemi. E ho un amico che vive a Berlino e mi ha detto, ma credo che ci sia un problema con questa applicazione. Ma non hai bisogno di fare una mappa come una mappa regolare. Questa è una mappa della passata di Highline in New York. E invece di fare una mappa regolare con piccoli punti sull'anno, hanno preso le fotografie sull'anno e poi hanno preso le sulle. E credo che sia così buono graficamente. Chiaramente le mappe si possono produrre in vari modi. Non è che si deve fare nel modo classico. Questo per esempio è una mappatura dei vari grattacieli a New York. Quindi l'hanno semplicemente sistemato in maniera diversa. Ed è un modo elegante di trasferire queste informazioni. Io stesso ho prodotto tantissime mappe nella mia carriera. Questa è una che abbiamo fatto per Traveler. Abbiamo usato anche tante informazioni digitali in rilievo che potevamo scaricare gratuitamente. Questo programma che si chiama Simple Dem Viewer è gratuito. E si può scaricare queste informazioni in rilievo praticamente dalla NASA stessa. E' estremamente facile. Pensate che per riuscire a creare un'immagine come questa bastano tre clic sostanzialmente. Molto molto semplice. Lo può fare chiunque. Abbiamo usato una mappa molto semplice che abbiamo prodotto per il World Trade Center. E il fatto di aver evidenziato in celeste gli edifici nuovi e aver lasciato il resto in prospettiva credo che dà l'idea molto chiara, molto semplice. Beh, in realtà non è così la Torre Felber. Abbiamo usato una mappa del stesso in Parisi. Ma... Oh, non si riproduce molto bene. Non lo vedete. Non lo vedete. Il problema qui è che tutte queste linee, insomma, non creavano più che altro confusione. Non riuscivamo a dare l'idea... Saltiamolo questo perché non rende l'idea che voglio darvi. E questa è una mappa ad alta risoluzione di San Sebastian. E questa è una mappa ad alta risoluzione di San Sebastian. Qui si riescono a vedere anche gli edifici. Mi piace molto poter usare anche questa forma di reticolato per le mappe. Mi piacerebbe che qualcuno mi pagasse per creare una mappa così come con un modello. Questo è una mappa di Berlino che è stata realizzata usando un software in 3D. Vedete qui i dettagli. E credo che il futuro che ci si prospetta con le stampanti 3D e quello che si può realizzare con questi nuovi sistemi sia davvero incredibile. Spesso uso questa immagine per insegnare agli studenti ciò che non si dovrebbe fare, ovvero usare tanti, tanti, tanti colori. Ma anche se questo è molto bello, cosa ci dice che le persone in Italia fanno tweet in italiano? Ma può essere bellissimo, bello quanto ci pare, però in realtà che cosa ci dice? Ci dice per esempio quante persone fanno tweet in italiano. E in Inghilterra usano l'inglese. E nei paesi bassi dolandesi, insomma, sì, sono informazioni. Non credo che sia utile tanto quanto sia bello, ecco. Ma è molto bello. Se sviluppi un mapa basato sul tempo, puoi iniziare a vedere alcune cose interessanti. Se vivi in Italia, sapete la forma di Italia. Ma questo è il tempo di train a diverse locali. Quindi la mapa replota basato sul tempo. Quindi potresti fare lo stesso in Italia, per esempio. E potresti vedere la forma di stretchare, basato su quanto tempo ti costruirà da un paese a un altro. In questo caso la mappa ci indica le tempistiche necessarie per poter viaggiare attraverso il paese. Quindi al di là della forma del paese, ognuno conosce il proprio. E in questo caso abbiamo una mappa riferita proprio ad un arco temporale, sostanzialmente. E diventa più un diagramma che una mappa. Ed è pienamente interattivo. Ed è pienamente interattivo. E in questo caso, vedete, copre le 24 ore. Chi sa che viaggiare in treno può essere così entusiasmante? Chi l'avrebbe mai detto? È la popolazione mondiale in longitudine. E per latitudine. Siamo tutti lì al centro, no? In qualche modo. Il sud non è tanto previsto. Questo rappresenta tutti gli uragani avvenuti, o almeno quelli quantomeno registrati. E ovviamente questi sono gli utenti Facebook. Un miliardo e due utenti Facebook. E ancora una volta è abbastanza scontato dove viene usato Facebook. dubito che venga usato nel deserto del Sahara, insomma. Ecco. Forse conoscete questo OpenStreetMap. È una mappatura fatta proprio dagli utenti, si possono poi scaricare varie applicazioni. E questa è New York. Io personalmente sto usando OpenStreetMap per vari progetti. L'ho usato per vari progetti. Io uso QGIS. Q-G-I-S. Q-G-I-S. Che è un programma che permette di elaborare gratuitamente questi dati. Q-G-I-S. Q-G-I-S. Questo è un tentativo di superimposare tre parti di data di un'altra mappa degli USA. e questo è un tentativo di mettere su un'unica mappa tre diverse mappature che hanno a che fare con la lettura, la scrittura e il guadagno. e hanno cercato di mettere tre in uno e in basso a sinistra c'è anche una spiegazione piuttosto complessa di come questi colori vengono sovrapposti il perché eccetera però dubito che le persone si soffermino tanto poi a... scusa? il classico metodo RGB diciamo il classico metodo RGB sì, è come rompere in un colore primario sì, è come un RGB esattamente esatto questo è solo plottare strutture di spiegazione ma è interessante come hai il plan view e l'elevation lavorando insieme questa è una visione chiaramente di una tratta aerea però è interessante come riusciamo a vederlo con l'ombra quindi si vede in rilievo e la visione anche poi per terra e se tutta la popolazione mondiale si trovasse in un unico luogo diciamo che tutta la popolazione potrebbe come vedete qui nel riquadro in basso riempirebbe quasi tutti gli Stati Uniti e se usiamo la densità di New York avremo tutta la popolazione nel Texas e quindi è incredibile come il resto del mondo sarebbe praticamente vuoto e tutti potrebbero vivere nel Texas questo è l'uso dell'iPhone in Germania c'è gente che pensa che le mappe siano noiose però io vedo proprio la bellezza che troviamo nelle mappe questa è una mappa dell'umore di un tizio che camminando per strada ha registrato il suo umore sostanzialmente come si sentiva e ci sono anche poi i commenti del perché si sentiva in un certo modo in base alle cose che ha visto in base alle cose che ha sentito e questo non è particolarmente attraente come mappa non è bellissima però il messaggio è efficace poiché le mappe in genere mostrano l'Africa in una misura più piccola di quella che è realmente e qui vediamo come tutte queste nazioni potrebbero essere contenute in Africa India, Cina, gli Stati Uniti tutto all'interno dell'Africa, del continente se ci pensate bene è incredibile vedere quanto realmente è grande l'Africa negli Stati Uniti hanno questa idea che l'Africa sia un continente piccolo però si può vedere che addirittura potrebbe contenere fino a tre volte gli Stati Uniti è più grande della Cina questa è una mappa che confonde molto gli americani perché vediamo sempre l'Alaska e Hawaii in basso sotto gli Stati Uniti e ho sempre pensato che l'Alaska fosse piccolo fino a quando l'ho visto proiettato in questa maniera e in realtà si estende da una parte all'altra degli Stati Uniti e questo è un esempio di infografica che riesce a comunicare un messaggio chiaro e diretto senza parole e se dovessimo riorganizzare il mondo in un modo che fosse giusto per cui la nazione più grande con il maggior numero di popolazione e quello più piccolo con il minor numero di popolazione gli Stati Uniti resterebbero così come sono India diventerebbe Canada sto cercando l'Italia riuscite a trovare l'Italia? credo che diventerebbe Angola quindi dovete tutti trasferirvi lì Pakistan ottiene l'Australia e l'Indonesia la Cina ma la Cina la Russia comunque lo trovo divertente qui c'è un esempio dove a causa di come si modificano queste circonferenze darebbe l'idea che le morti per uso di droga si estendono fin dentro gli Stati Uniti vedete non sono dall'altra parte del confine però si ha l'idea che potrebbe esserlo questa è una mappa che ho realizzato io qualche tempo fa per Traveler dove ancora una volta si vedono gli edifici, le ombre c'è il piazza Tiananmen Rotterdam e usavo questo stile molto semplice e questo è il museo di storia naturale a New York e le mappe su cui lavoro spesso vogliono proprio indicare dove una persona si trova quindi dove ci troviamo in una mia visita a Londra sono stato all'Albert Museum e c'è questo bellissimo Chihuly la cosa particolare è che è un museo un po' difficile da visitare perché è distribuito su vari piani e quindi sono andato all'ufficio informazioni e ho chiesto se avessero una mappa del museo ed ecco che cosa mi hanno dato e ho detto no ma state scherzando in realtà mi sembrava di aver fatto quest'altra domanda avete un diagramma per poter risistemare un condizionatore d'aria per i vari cavi del condizionatore devo dire davvero su questo che cos'è c'era gente dappertutto che faceva così girava la mappa su, giù, dietro chiunque l'ha realizzato non aveva proprio un concetto di che cos'è una mappa e quindi sono andato da Traveler e ho detto perché non realizziamo una mappa del Victoria's Book Museum perché tanti americani in effetti ci vanno e abbiamo trovato uno sponsor per creare questa mappa e la mia idea è che è un museo molto grande e non puoi possibili andare all'interno del museo quindi noi lo chiamavamo 60 minuti che è incredibile ma noi facciamo un museo molto speciale con una grande selezione di cose e la mia idea era siccome è un museo enorme ed è impossibile visitarlo tutto diciamo si è voluto creare questa mappa dove abbiamo condensato la visita in 60 minuti anche questa è folle però volevamo essere un po' più specifici e quindi ho iniziato così con una vista un po' panoramica diciamo del museo e l'idea che ogni pagina indicava una zona specifica del museo ed era impossibile quindi perdersi si seguiva perfettamente il percorso è un'idea molto semplice ma è stato molto apprezzato perché oltretutto l'autore insomma chi ha scritto i vari commenti è andato a selezionare le cose anche migliori da vedere in ogni galleria quindi in 60 minuti diciamo non ti sei perso nel museo hai visto le cose migliori da vedere e ti sei preso anche un caffè in genere questo è ciò che accade devo dire e qualcuno crede di sapere come darti delle indicazioni però poi in realtà pensano di averti dato delle istruzioni precise e in realtà no e in una versione moderna chiaramente di quella della mappa del museo potremmo avere l'effetto tramite GPS e vedere noi stessi mentre camminiamo nel museo e seguiamo il percorso e ho cercato di fare la stessa cosa con il Louvre sempre nella rivista questo è più illustrativo chiaramente però vedete cercavo semplicemente di dare proprio chiarezza al percorso da seguire sono stato anche al Guggenheim Bilbao e mia moglie mi ha dato del matto praticamente però mentre ero lì ho iniziato a segnare sulla mappa che avevo varie cose lì a penna caso mai dovessi realizzare una mappa più semplice anche di questo perché in realtà la mappa che ti danno lì è completamente sbagliata nel senso che ci sono porte che non puoi attraversare sono segnate scale che poi in realtà non puoi prendere e quindi stavo lì a segnarmi tutto qualora un giorno dovessi realizzare qualcosa di più preciso io sono conosciuto come colui che mette queste linee rosse segna le linee rosse nelle mappe però devo dire che non è una mia originalità perché se si va a Boston si può trovare questo tracciato chiamato il tracciato della libertà ed è effettivamente una linea rossa segnata sul terreno basta seguirlo letteralmente si potrebbe fare anche a Lecce tutto sommato c'è questa linea rossa che ti fa attraversare la città rende la vita molto facile per i turisti e quindi ho preso quest'idea e l'ho realizzato poi nelle mappe aiutando insomma i percorsi è un'idea semplice in questo caso le foto che vedete qui erano a colori ma le ho fatte poi realizzare in bec e nero così c'era un contrasto tra i vari colori e in quel caso ho usato il verde perché nel testo c'è proprio scritto recatevi al ponte verde questo posto lo conoscete sicuramente questa è insomma la visione d'insieme però poi ti porta ad attraversare in maniera lineare questo è Key West quindi poi abbiamo realizzato queste passeggiate nelle varie città americane e un anno dopo sono tornata a Key West sono andato in un ristorante dove ho visto che avevano incorniciato addirittura questa mappa l'avevano appeso nel ristorante e l'avevano e l'avevano anche decorato insomma abbellito con varie immagini e foto questo è questo è un percorso per jogging qui si riesce a vedere dove si trovano gli americani con un maggior numero di passaporti devo dire questo risale al 2006 però le cose non sono molto cambiate da allora Washington con il 29% della popolazione provvista di passaporto ma è anche logico visto la presenza dei diplomatici New York solo il 6% però adesso siamo saliti all'8% l'8% dei new yorkesi ha un passaporto e il Texas ha solo il 2% e l'Arkansas è ma credo che questo significa non data perché altrimenti nessuno in Arkansas ha un passaporto e è difficile credere nell'Arkansas vediamo che lo stato è bianco non è colorato però io voglio pensare perché mancano i dati altrimenti si dovrebbe presupporre che nessuno ha un passaporto mi sembra un po' incredibile trovo questo un sistema molto interessante intelligente di indicare il percorso da seguire e il tempo che si impiega per effettuare quel percorso non credo davvero che si possa dire che le mappe siano noiose questo è un uragano vedete adesso abbiamo la mappatura insomma video in questo caso per esempio abbiamo le strade di Amsterdam colorate in base a come vengono utilizzate quanto frequentemente vengono utilizzate le strade grazie al sistema GPS quindi in base a come le persone dotate di GPS o tramite cellulari hanno utilizzato la città quindi rispetto alla mappatura vera quella che ti darebbero delle strade principali della città qui si vede invece l'uso effettivo che si fa delle strade quindi c'è un po' di discrevanza questa è la metropolitana di Mosca questa è la mappa che mi hanno dato in albergo quando sono stato a Tokyo e ho detto ah grazie questa sì che è utile però sono riuscito a ricordarmi come tornare in albergo perché il simboletto che veniva utilizzato era praticamente un omino con il suo cestino da picnic e sono riuscito a ritornare in albergo chiaramente prendono tutti spunto dalla mappa della metropolitana londinese la particolarità della mappa della metropolitana londinese è che non è una vera e propria mappa ma un diagramma tanto è vero che questa è l'immagine poi originale guardate la distorsione è incredibile guardate non ha a che fare con la geografia come vedete se torniamo alla mappa originale quella vera è molto diversa quindi viene chiamata ma è fondamentalmente un diagramma ci sono poi persone che non hanno niente da fare tutto il giorno e quindi poi si mettono su internet e creano mappe di questo tipo dove segnalano quali tipi di animali hanno trovato nella metropolitana davvero credo che ci sia gente che non abbia proprio niente da fare hanno troppo tempo a disposizione un po' è davvero folle quindi ho anche un libro dove c'è questa mappa qui dove le persone hanno segnato un po' tutte le metropolitane sparse nel mondo e su internet si possono trovare davvero milioni di mappe di questo tipo in questo caso dei film le persone hanno cercato di realizzare mappe tematiche insomma su varie tematiche sempre con questo sistema di mappa metropolitana ma mi domando se poi c'è davvero qualcuno che si mette lì e cerca di analizzare studiare queste mappe di capirle e qualcuno ha fatto anche il sistema interstatale degli Stati Uniti sempre con questo format della metropolitana devo dire è anche elegante però non so se sia poi funzionale se si va in questa zona delle chiamate dei four corners i quattro angoli dove i quattro stati si incontrano ad angolo io ci sono stato personalmente purtroppo pare che questo ho letto su wikipedia che questo punto che hanno creato in realtà è sbagliato di più o meno un centinaio di metri però teoricamente questo è il punto esatto in cui i quattro stati si incrociano se fosse giusto che non è questa X indicherebbe dove i quattro stati si incontrano e tutti i turisti che vanno lì cercano di scattare questa foto dove ogni parte del corpo è in uno stato diverso c'è un programma televisivo in America che si intitola l'America rivelata per esempio qui si faceva vedere la consegna delle pizze però ripeto io trovo veramente ecco la bellezza delle mappe qui è il trasporto pubblico a New York il blu per esempio rappresenta gli autobus e l'arancione sono i treni oh no il blu vi chiedo scusa il blu è la metropolitana e il traffico aereo nei tre aeroporti new yorkesi e qui è sempre zona Manhattan rappresenta la concentrazione della popolazione che va a svolgere le varie attività e questo per esempio è Manhattan riproiettata in una forma di circonferenza e quindi ti fa davvero rivedere il posto sotto una nuova ottica è un bel poster devo dire si vedono i film dove ci sono quindi questa mappa rappresenta la distanza che ha percorso l'Apollo 11 per atterrare sulla luna sostanzialmente in realtà la distanza era inferiore alla grandezza di un campo di calcio e qui si vede come New York è a sud di Roma e spesso la gente questo non lo realizza è a sud di Barcellona a nord di Madrid e a sud di Istanbul anche se è d'inverno è difficile crederci devo dire e terremoti queste sono persone che si spostano per tornare a casa negli Stati Uniti per il giorno di ringraziamento questi sono gli uffici postali che hanno aperto negli Stati Uniti negli anni qui in basso a sinistra vedete gli anni che vanno avanti e qui man mano si vede come gli uffici postali si sono sparsi ma basta avere i dati no? avendo i dati si possono creare questi grafici e poi ci sono mappe come queste che io trovo bellissime queste mappe cinesi illustrate a volte ci dimentichiamo della ricchezza proprio che c'è nell'arte qui vediamo le ricerche effettuate su Google e quindi in realtà stiamo vedendo la diffusione della proprio civiltà nel mondo Matthew Pickton è un artista e utilizza la plastica per realizzare queste mappe delle città quindi questa è Mosca qui c'è Roma e le trovo e le trovo mentre Armel Caron prende le mappe le taglia sostanzialmente a pezzettini e le mette in ordine in base alle varie misure questa per esempio è New York credo che questa sia Istanbul Berlino Parigi e il mondo l'Antartica vedete lì questa è una mappa che rappresenta la felicità nel mondo e vedete come l'Italia devo dire è felice ieri ieri vi ho mostrato quanto l'Italia è corrotta oggi sto mostrando quanto è felice quindi le cose non vanno tanto male dai vi ringrazio molto per oggi credo che abbiamo completato grazie ancora ci vediamo domani sempre intorno alle nove anche precisamente per l'ultimo giorno di 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 grazie grazie a tutti Grazie a tutti.